100%, ok, tu riporto 5-7, Giuseppe, ma tengo molto disturbi con la mia verticale, molto disturbi di vicino con la verticale, mi ha un po' di rumore, la recessione sta un po' negativa con la mia verticale, ma... ma... 100%, ok Giuseppe? Grazie per la tua chiamata e auguro buona continuazione, buon divertimento e buon fine settimana. A te il cambio Giuseppe, scolta il tuo finale con piacere, Italia-Ferlanda 6-0, gol su Lugwisti, ha trasmesso il gol fa 1, un abbraccio e ci siudiamo Giuseppe, ciao! Ok, grazie, grazie amico mio, grazie, 5-9 più il tuo segnale qui in centro Italia sul mare, in Gaeta, Gaeta sul mar Tirreno, ti saluto e ti abbraccio, ciao ciao from Italy! Ciao Giuseppe, questo pagaggio è 5-9 anche per te, non ti preoccupare, vai arrivando bene qui alla Spagna, ciao e grazie per il riporto Giuseppe, e alle prossime, Italia-Ferlanda 6-0, gol su Lugwisti, ha trasmesso il colpa 1, un abbraccio e alla prossima, ci sentiamo! Ciao ciao, ti ringrazio, ciao alla prossima! Avete visto che anche con la speaker wire, vabbè la Spagna è di fronte qui, insomma è vicino, sto andando con 3-4 watt qui Se abbiamo la fortuna che ci lasciano un po', diciamo così, altre stazioni tranquille, allora possiamo anche, chiaramente anche l'Australia, la Nuova Zelanda e l'Oceania ci risponderà, ma chiaramente se c'è il pile up, il QRP è questo signori, avere pazienza, ogni tanto un contatto, ma però l'ascolto è la cosa principale Vi voglio far vedere l'ultima cosa dell'antenna speaker wire, perché sicuramente abbassiamo un po' qui, ecco qua, vediamo un po', vi faccio vedere com'è collegata qui alla radio, perché non c'è il PL come sapete voi, no? Ecco qui, c'è, ecco qua, dietro arriva l'antenna, la parte, diciamo così, una parte della, vedete, una parte della piattina, l'altra piattina, l'altra parte, è collegata alla carcassa della radio, eccola qui, mi faccio vedere, eccola qui, vedete, eccola qui, la carcassa, seppure è spenta la radio, no? Vedete qui sotto c'è il coso che esce qui, eccolo qua, vedete, è collegata l'altra parte, l'altra parte, ok? Perché parecchi di voi hanno chiesto altre volte come è collegata qui, siccome è un cavo, è una piattina, si divide in due, una parte, vedete, va solo al centrale dell'accordatore, solo al centrale, e un'altra parte va alla carcassa della radio, ok? Potete anche mettere il centrale qui, se non usate l'accordatore, in questo caso è accordata per i 20 metri, non c'è anche bisogno di questo accordatore, potete collegare qui il positivo e alla carcassa collegate, eccola qua, l'altra parte, questa qua è il negativo, vedete, due parti, una qui, una rossa che va al centro, e una nera qui che va alla carcassa della radio, ok? Abbiamo fatto anche un contatto così, giusto per vedere se qualcuno mi sente, mi sentono senz'altro, perché chiaramente è una stazione europea, non c'è pile up, non c'è altre cose, quindi se abbiamo la fortuna di lavorare con una stazione dell'Oceania senza che altre stazioni ci siano sopra, è chiaro che è normale che ci senta, ci sente sicuramente, io sono convinto sempre di questo, anche con pochissimi watt, non c'è bisogno di avere grosse potenze, una minima antenna, un'antenna minimale come questa qui, però è chiaro, il posto è determinante, il posto è determinante, signori, in questo posto si può fare questo ed altro, anche con una piccola antenna a stilo addirittura, come l'altra volta, però diciamo così, i contatti, certamente, io vengo qua per ascoltare, principalmente per ascoltare, non ci penso proprio a trasmettere, però se c'è, diciamo così, possiamo anche fare quello qualche volta, così ci provo, ci provo, tutto qua. Grazie ancora e buona giornata a tutti.